Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV canale 12 che di Radio Center Music 99.100 in FM. Siamo in questo momento anche in contemporanea streaming sul nostro sito etvmarche.it In apertura di questa edizione le elezioni 4 marzo giorno del voto in Italia nelle Marche in particolare al primo step delle 12 nella nostra regione per il rinnovo della Camera dei Deputati ha votato il 19,81% degli aventi diritto. Alle politiche del 2013 quando però si votava lo ricordiamo in due giorni. Oggi invece l'affluenza si chiuderà alle 23. Alle 12 era stata del 15,63% 5 anni fa. Tra le province secondo i dati della Viminale la percentuale più alta dei votanti è per ora quella di Pesaro Urbino a seguire Ancona, Fermo, Macerata e Ascoli Piceno. Sul voto c'è da segnalare anche un episodio di cronaca poi passeremo all'annuncio della nostra diretta da domani mattina non stop dalle ore 7. Cronaca dicevamo Bagarra attorno alle 11 al seggio 20 di Falconara all'interno della scuola Aldomoro dove un elettore di 35 anni si è fatto consegnare le schede elettorali e le ha barrate davanti agli scrutatori senza entrare in cabina. Lui stesso ha ripreso poi l'operazione col telefonino. Se non faccio così il mio voto non sarà annullato ha detto ma andrà alla maggioranza. Gli scrutatori hanno tentato di spiegargli invece che stava commettendo un illecito scatenando la reazione infervorata dell'elettore che è stato poi fermato dai poliziotti presenti nel seggio e poi accompagnato presso la tenenza dei carabinieri di Falconara. L'intervento delle forze dell'ordine ha ritardato le operazioni di voto, operazioni di voto che sono lente in generale a livello nazionale per via del bollino antitruffa che è un elemento inserito come novità in questo voto. A proposito di certezze rispetto alle novità anche quest'anno come da tradizione la nostra emittente seguirà lo spoglio dei risultati in diretta su ETV Canale 12. Appuntamento domani mattina dalle 7 con una puntata di Buongiorno Marche Speciale. Le Marche a Roma conoscerà in diretta con noi i nomi dei deputati e dei senatori che verranno eletti oggi nelle Marche, dati, analisi, ospiti e collegamenti anche da Macerata. Ti aspettiamo domani mattina a partire dalle ore 7. L'altro grande tema del giorno è stato il tempo, bar maltempo. C'è un aggiornamento a proposito di questo perché c'è ancora un'allerta meteo della protezione civile delle Marche, valido da mezzanotte alle 24 di domani, che indica pioggia mentre rimane l'allerta arancione per la criticità idraulica e idrogeologica nella parte settentrionale e centrale delle Marche, specie sull'Urbinate e sulla Pesarese. Nelle province meridionali invece l'allerta è gialla per criticità idrogeologica e idraulica. La protezione civile regionale ha attivato dunque la fase di attenzione. Sul punto rispetto alla giornata di ieri e alla nottata partiamo da Fano perché dal tardo pomeriggio di ieri è chiuso al traffico via 8 strada da via Inaudi fino a via Papiria, sbarrato all'accesso con sacchi antiallagamento. Riosecco infatti, a seguito delle forti piogge e dello scioglimento della neve, ha esondato invadendo la via. Due delle cinque famiglie che abitano lungo questa strada hanno lasciato le abitazioni già invase dall'acqua. In zona Ancona invece è passata l'emergenza neve, è arrivata la pioggia da regrattacapi, gonfiando fiume e torrenti allagando le strade compresa, come vedete nella foto, via Flaminia e provocando colate di fango e veri e propri smottamenti. Ieri si segnalavano smottamenti in diversi punti del territorio comunale di Ancona, specie delle frazioni già colpite dall'effetto Burian. I vigili urbani hanno dovuto chiudere in particolare la strada che da Casine di Paterno sale verso Paterno per una colata di fango piuttosto massiccia. Da Fano ad Ancona, da Ancona a Senigallia. Per una buona notizia in questo caso, perché durante la notte il livello del fiume Misa è rientrato nella norma. Lo rende noto il comune. Ieri sera, a causa dell'ingrossamento del fiume, esondato nel 2014, era stato disposto l'allontanamento delle auto dalle strade attorno al canale e il montaggio di paratie sui ponti a scopo precauzionale. La fase di preallarme è cessata, ma i monitoraggi a vista continuano e noi vi terremo aggiornati. La cronaca, ora un uomo di 36 anni, romeno di origine, ma residente a Falconara e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona per le ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto alle 4 sulla Flaminia, all'altezza del bypass del porto. Vedete un'immagine se ci seguite su ETV. L'uomo viaggiava da solo in direzione Falconara quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo fuoristrada. Ci spostiamo a Porto Sant'Empidio. Tentano il furto in pieno giorno a casa del consigliere comunale Balestrieri. In pieno giorno e di sabato pomeriggio. Questo il suo commento. Mia moglie era nel corridoio dei box. Condominiali si è trovata faccia a faccia con i due ladri che cercavano di introdursi nei box per rubare. Se avessero avuto qualcosa in mano consiglia il consigliere comunale. Data la distanza ravvicinata l'avrebbero forse colpita e poteva andare diversamente. I due si sono dileguati, dice ancora Balestrieri, verso la campagna indagini e ricerche in corso. Da Porto Sant'Empidio a Senigallia. Tragedia in un appartamento nei pressi di piazza Saffi dove ieri, poco dopo le 21, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. Un uomo di 84 anni. I primi ad accorrere sono stati i sanitari del 118 ma per l'uomo oramai non c'era più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono arrivati anche i carabinieri che per quello che è accaduto hanno informato l'autorità giudiziaria come da prassi. Verifiche in corso anche se nulla lasciava presagire una tragedia della genere. Ora una buona notizia e poi chiudiamo con tipicità. Il vescovo Carlo Bresciani a Grotta Mare ha prieseduto l'eucaristia nella chiesa di San Martino a Grotta Mare. La prima chiesa nella diocesi di San Benedetto che riapre tra quelle danneggiate dal sisma. Intanto sono arrivati i decreti attuativi post-sisma per impiegare 2,5 milioni di euro e restituire ad almeno 9 su 13 paesi della diocesi di San Benedetto un luogo di culto agibile. Potremmo bandire le gare spiega Giorgio Carosi, l'ingegnere che si occupa della gestione per conto del vescovo Bresciani e una volta scelti i vincitori in 15 giorni potremo iniziare i lavori. È stato il weekend di tipicità, un appuntamento che come da tradizione ha visto protagonista anche la nostra emittente ETV. Allora il servizio di Giulia Boschi con il coordinamento di Roberto Properzi. Secondo giorno a tipicità, siamo a fermo anche per oggi tanti gli eventi in programma, gli incontri con il pubblico ma soprattutto le opportunità per conoscere le aziende del territorio. Di appuntamenti ce ne sono diversi soprattutto nella cosiddetta accademia che è la cucina a vista dove si alternano chef di fama anche internazionale perché abbiamo da New York, da Praga, oltre agli stellati italiani, addirittura abbiamo uno degli otto tristellati d'Italia che è Chico Cerea. Poi il Biogarden dove sarà possibile dialogare con le piante, anche i bambini attraverso degli schermi e dei sensori potranno conoscere le esigenze delle piante. Sicuramente poi tutto il discorso del congressuale dove sono momenti di approfondimento importanti. Quindi devo dire che è una domenica importante perché poi il tempo che all'inizio della settimana si era presentato così catastrofico, diciamo che poi ci ha regalato un fine settimana che è proprio adeguato a godere appieno di questa manifestazione. Ieri il taglio del nastro, soddisfatti di questa prima giornata? Sì, molto soddisfatti perché poi le previsioni della vigilia non erano confortanti, invece con il tempo che è nettamente migliorato, con le strade pulite, poi oggi che è ancora meglio si prospetta una giornata importante. Quindi siamo molto soddisfatti soprattutto della qualità ma anche dell'afflusso di visitatori. Grazie. Si chiude qui questa edizione regionale domenicale del nostro telegiornale, un'edizione che solitamente come da tradizione è piena zeppa di sport, di belle immagini, di successi, di sconfitte, insomma della parte più bella dello sport in generale, del calcio in particolare. Oggi no, oggi c'è da piangere un ragazzo di 31 anni che è morto. Parliamo del capitano della Fiorentina Astori, il calcio si è fermato oggi per ricordarlo, trovato senza vita in hotel, anche il calcio marchigiano chiaramente ha reso omaggio al capitano della Viola. Cause naturali, questo secondo la procura Astori aveva, lo ricordiamo, solamente 31 anni. In chiusura ricordiamo che domani mattina dalle 7 potrete seguire insieme con noi in diretta su Etv Canale 12 ma anche su Radio Center Music e in streaming sul sito etvmarche.it oltre che in diretta sulla pagina Facebook di Etv Marche il nostro speciale elezioni. Segue i risultati del voto in diretta su Etv Canale 12. Conoscerai con noi i nomi dei deputati e dei senatori che verranno eletti nelle Marche, dati, analisi, ospiti e collegamenti da Macerata. Appuntamento a domani mattina dalle 7 con Buongiorno Marche, speciale elezioni. È davvero tutto, grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.